Ma che posto è questo? E soprattutto, cosa ci faccio in questo villaggio? E dov'è Fere? Ciao Stef! Io lo so che è colpa sua Fere? Ciao, non mi vedi? No? E stai guardando nel posto sbagliato Stef, ciao! Ciao! No, non sono il cane Stef Come stai Fere? Cosa ci fai? Stai guardando nella direzione sbagliata come sempre Stef! Sono qui, guardami, vedi? E ora mi stai guardando in faccia, ci stiamo guardando in faccia Io annuisco perché, capito? Stai guardando nella giusta direzione Quindi sono io Fai un saltello Ok, davvero Fere Allora, non voglio Stai Stef! No, no, Fere, 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 Fere Già sei pericolosa normalmente, ci manca solo che ti trasformi in un Creeper Non voglio andare, diciamo, nei dettagli di come sei diventato un Creeper Magia Stef, magia Però ho bisogno di sapere una cosa che è molto importante Sei travestita da Creeper o sei un vero e proprio Creeper? Sono un Creeper, totalmente a tutti gli effetti Devi dimostrarmelo Fere, perché io non ci credo mai nella vita Ti conviene stare lontano Stef, perché sono molto pericoloso Io metto qui in un angolo Ok Vado Sei pronto Stef? Fere! Guarda che esplodo, esplodo, esplodo Non esplodo E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E sono Stef, che si giocava a Minecraft E oggi siamo qui con un episodio un po' particolare Perché Stef, ti voglio raccontare la storia del mio amico Creeper Ok, non so come hai fatto ad avere un amico Creeper nella vita Però raccontami pure Ho un amico Creeper, tu non lo sapevi Ti ho tenuto all'oscuro di tutto ciò Ok Però ti voglio raccontare la sua storia Ok Perché mi ha colpito particolarmente È un po' triste Quindi mi raccomando preparati i fazzoletti nel caso che ti venga da piangere Capito? Ce li ho? Ce li hai? Ce li hai? Perfetto, perfetto Allora, lui essendo un Creeper Sì Ovviamente è stato emarginato dal villaggio che tu vedi qua Non hanno fatto bene Certo, anche io se vedo un Creeper faccio delle mura per tenerlo lontano Infatti vedi che gli hanno messo delle mura che lui ovviamente non può scavalcare Certo E quindi l'hanno intrappolato e confinato nella sua casetta Che ovviamente è un po' egocentrico Stef Penso che si noti, vero? Un po' Penso che si noti Ok, sì Vabbè, lui si è costruito una casa così che ti devo dire Non è che l'ho fatta io ma l'ho fatta lui Va bene, va bene, continuiamo Allora, ti dico già non ti spaventare quando entrerai Perché ci sono un po' di cose un po' strane Però è un Creeper quindi Ma allora, fammi capire un attimino Noi stiamo praticamente analizzando la vita di un Creeper Certo Una roba del genere Ok, poi mi spiegherai più avanti perché tu ti puoi trasformare in un Creeper Giusto? Perché io ovviamente ho trovato una magia per poterlo aiutare Perché te l'ho detto, mi sono presa a cuore la sua storia Ok Poi ti spiegherò Stef Ok, va bene, va bene, va bene Allora fammi vedere questa casa Allora, è molto piccolina giustamente Sì Molto piccola, vedi qua Ci sono le sue foto Beh, perché non bastava la casa a forma di Creeper Certo, è un po' egocentrico A lui piace essere un Creeper Quindi queste sono le sue foto Ok Ok Poi cosa abbiamo? Questo non è niente Stef Ok Cosa vuol dire che non è niente? Non è nulla Non hai visto nulla Chiudiamo le porte Cosa stai dicendo? Ok Capirai Stef Capirai Ok, va bene Questa è la sua camera da letto Ma va bene, ma non è possibile Cosa? Queste sono altre sue foto di quando era in giro Vedi? Che c'è un paesaggio bello dietro Ti piace? Sì, sì, si sembra al mare Sì, e quando lui viaggia Cioè, stava libero Ok Prima di essere intrappolato in questo posto Poteva visitare tanti posti E quello si è provato a fare anche un'armatura Ma non avendo le braccia Non riusciva a indossarla Ah, ok Quindi l'ha boggiata qui E questa ovviamente è un'altra Un'altra sua foto Giustamente Per ricordarci sempre la sua faccia Ok E poi come vedrai qua Aspetta che se no ci incastriamo Lui tiene d'occhio il villaggio, capito? Qui quindi li osservava Cercava di fare degli esperimenti Per uscire da qui E poter tornare a vivere nel villaggio Ma ovviamente non ce l'ha fatta Ok Quindi adesso è offesissimo Se n'è andato via Anche se non so dove Non te lo so dire Non te l'ha detto E noi siamo qui per aiutarlo Capito? Ok Allora Due domande Sì, molto bella come storia Mi stavo addormentando Prima domanda Ok Ok Perché dobbiamo aiutare un creeper? Perché è mio amico Come vuoi aiutare questo creeper? Facendo esplodere il villaggio Non è aiutare Quello è distruggere Facciamo esplodere il villaggio E gli ho detto Certo, va bene Adesso mi ci metto io Nel tuo tavolo delle pozioni E farò questo cappello magico Che mi permetterà di essere un creeper E di far esplodere tutto Seconda cosa Come hai creato quel cappello? Non te lo posso dire Ok È un segreto quello No, perché poi se te lo dico Ti devo uccidere Ah beh La preferisci Vabbè Perché no, allora Questa è una magia Molto potente e pericolosa Steph Perché poi Tu non è che puoi fare solo il creeper Puoi impersonare Qualsiasi mostro Del mondo di Minecraft Ah sì? Quindi vuol dire Che va usata con cautela E nelle tue mani Secondo me Non sarebbe Ma è molto interessante Fede Non è che me lo presteresti Un pochino No, però no Perché dobbiamo fare una missione Molto importante Distruggere la città Va bene Che hanno esiliato Il nostro povero amico Ora scendiamo Sono pronta Steph Ho fatto Cosa hai fatto esattamente Sono trasformata in un creeper Non ti vedo Sono qui Ah, ecco ti Ciao Non si può vedere Come quando ha capito I supereroi si nascondono Posso chiederti allora una cosa È una mia curiosità personale Ok Ma i creeper Hanno gli animali domestici Sì, lui è Pino Pino E perché è un cane, Fede? Perché ha paura dei gatti Ha paura dei gatti Tutti sanno che i creeper Hanno paura dei gatti Scusami Scusami un attimo Tutti sanno che hanno paura dei gatti Quindi lui è un cane Per proteggersi dai gatti Steph Dimmi, Fede Steph, mi stai seguendo Quel mostriciattolo Mandalo via Ma perché, Fede? Sono così belli Steph, mi faccio esplodere Steph, mi faccio esplodere No, no, no Stai calma Stai calma Scusami Mandali via Non so Come faccio a mandali via, Fede? Non lo so Adesso non potrò mai più uscire da qui, Steph Aspetta, aspetta Fammi una scala, Steph Ok Steph Mandalo via Scusami Che ho detto che non mi piacciono Fede, vai, veloce, via, via Vai, salta via E vattene Perfetto, perfetto Ok Allora, da dove possiamo cominciare, Steph? Comunque è ironico che un Creeper abbia paura di un gatto Però Però ha paura Andiamo avanti Un'altra cosa di cui ha paura è Creeper Perché io adesso voglio divertirmi un po' Che noia, Steph Ma che gioco dobbiamo aiutarlo Noi di solito c'è Chi gioca a Minecraft teme questi Creeper Ne ha paura E non sa però che ha dei punti deboli Non hai paura di me No, Fede Perché sei Fede Quindi non ho paura di te Il primo punto deboli appunto sono i gatti Perché il Creeper scappa via quando vede un gatto Ed è davvero così Provatelo se volete Fa davvero ridere È una cosa fantastica Un'altra cosa interessante È che se io uso questo oggettino su di Fede Guardate Guardate Lì sta scappando Non so se funziona Perché lo sa già La obbligo ad esplodere Lì non può farci nulla La accendo come se fosse una TNT È stata un'esplosione talmente forte Che sono volata fuori dalla mappa E non scendo più, eh Non mi è mai capitato questo esplodendo da sola Sono ancora in cielo che volo, Steph Ho notato Sto ancora volando Lasciamo perdere il fatto che mi hai fatto esplodere Ok Ok, ok Che sono riuscita a tornare al normale È stato molto divertente Ti faccio una proposta Va bene Allora, se accetti di aiutarmi nel far esplodere tutto il villaggio Quindi senza fare i tuoi soliti moralismi Ok Ti spiego come puoi trasformarti in un Creeper Ok Ok, mi piace Ok, sei pronto? Sei pronto? Sei sicuro? Guarda che è molto pericoloso, Steph Devi essere proprio sicurissimo di questa cosa Io adesso ti do tutto il necessario Ma tu devi essere sicuro Cosa stai combinando? Sono sicurissimo, Fer Sono semplicemente divertito e non ve lo l'ora Allora Sei pronto? Vai Allora, uno Prendi questo Ok Che è un uovo di Creeper E prendi questo Ok Indossa il cappello Ok Ovviamente adesso vai a nasconderti anche tu Perché io non ti devo vedere Tutti i supereroi fanno così anche se non siamo supereroi Quindi nasconditi bene Allora, tu adesso Evocherai il Creeper Ok Ti accovacci e premi destro E la magia è fatta, Steph La magia è fatta Oh mio Dio Ovviamente come puoi notare dal timer sopra la tua testa Hai un tempo limitato di 5 minuti 5 minuti Perché questa sarebbe non proprio una trasformazione ma una possessione Tu infatti hai visto che hai preso il corpo di quel Creeper che hai evocato Ok E hai solo 5 minuti di tempo Io direi di iniziare da qualcosa di molto importante Tipo il mercato Facciamoli esplodere qua le banca C'è un ender Vai via Andrà a fare il mio amico Ci parlo io Come tuo amico Ci parlo io Ehi Ciao, come stai? Parliamo il linguaggio dei mostri noi, vero? Sì, posso fare un'altra magia? Sì Penso che funzioni ma non lo so sicura Vado Ok Vado Sì Ciao Steph Non era previsto però non ho resistito Scusami eh Scusami Andiamo in giro così Vorrei essere troppo un enderman Però aspetta Io so questa cosa Che mi posso L'ho fatto L'ho fatto Perché giustamente sei in potere Aspetta Bene Ascoltami Questa è la vita di un creeper Non puoi Trasformarti in enderman Andare in giro così a casa In enderman E trasportarti a casa Non l'ho previsto E non ho resistito però Guarda sono Talmente Arrabbiato Che Mi faccio esplodere Ho bucato tutto Fer Eh mi sei proprio lì Non so neanche dove mi ha fatto Ritornare Ma io sono morto È normale Tecnicamente non dovresti morire Però non so perché Oggi sta andando tutto male L'ultima cosa che voglio far vedere Nel creeper Prima di andare A distruggere tutto il villaggio Dato che mi chiesto Questo favore Eccetera 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 E far vedere come vede un creeper Ok Però io non so Se posso farlo vedere su di te No 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 Su di te non funziona Quindi aspetta E allora evochiamone uno Scusa Evochiamone uno E proviamo Però non riesco a attaccarmi da te Ok ce l'ho fatta Dimmi che funziona Dimmi che funziona Ti prego Ti prego Ti prego Non sta funzionando Ok ce l'ho Fatta Oh mio dio Mi è successa una cosa stranissima Cioè Mi ha fatto uscire dal mio creeper Davvero Cioè hai provato su di me sbagliando Per caso Non lo so Non lo so Io mi prendo l'altro Però consolini State vedendo come vede il mondo Un creeper Cioè Io voglio elencare le cose Della vita del creeper Non può mangiare Non ha le braccia Quindi non può mettere blocchi E non può fare tutte le cose Che può fare una persona con le braccia Ha paura dei gatti Che sono gli animali più belli del mondo Quando si avvicina qualcuno Esplode E per di più vede così il mondo Cioè è una tristezza È tutto verde È tutto più pixeloso Povero creeper Allora io mi sento E invece è bello A me piace che veda verde Cioè è strano ma mi piace Vieni davanti a me Voglio vedere come ti vedo Guardami verde Allora dove sei fare Devi venirmi davanti Quale sei tu dei due Sarò l'altro Quello che guarda le montagne Eccoti Eccoti Guardati Oh mamma mia È super Tu l'avresti mai detto Che vede verde Perché ok che lui è verde Ma non hai detto Che debba vedere verde Lo so È molto strano Ricapitolando tutte queste cose Ho capito Che la vita di un creeper È davvero triste Mi dispiace Che il tuo amico È stato emarginato Dal villaggio Ed è stato trattato così male Quindi Steph Girati Che c'è C'era il creeper dietro di noi Impazzito Stava ballando malissimo Cioè non so se era felice Stava girando intorno No ma era bellissimo Dovevi vederlo Era il discorso finale del film Adesso si è girato Perché si è offeso Però è bellissimo Era il discorso Come quando consigliere degli anelli Parte l'armata Cioè tu mi hai interrotto In un momento molto importante Quindi voglio ripartire Allora stavo dicendo Che dato che è una vita terribile In tutto e per tutto E mi sono immedesimato Ti voglio dare una mano E ti darò una mano Con una cosa Che non so se funziona Ma che tu non conosci E che se funziona Ti darà tutto il potere Che ti serve Per distruggere il villaggio Cosa sarebbe? Usare i fulmini Fere Lo sai che un creeper Colpito da un fulmine Diventa più potente E fa un'esplosione Molto più grande? Davvero? Sì Fere Però non so Se ci riusciremo Ma come fai a colpirmi Con un fulmine? È quella la parte difficile Difficile Fere Sei trasformata? Sì Sono prontissima Allora Sto parlando con questa voce Perché ti devo dire Che non sono in grado Di fare i fulmini Su Minecraft Quindi sto cercando di sembrare Quello figo lo stesso Ok Siamo tutti d'accordo Il mio piano per aiutarti Con i fulmini Per renderti il creeper Più forte di sempre Non ha funzionato Però Ho comunque in mente un modo Ok dimmi Creerò un'armata di creeper Che tu dirai Ma non esplodono Steph Perché il creeper In mani mezzo al villaggio Non esplode Perché non ci sono dei player Eh esatto Utilizzerò l'accendino E li farò esplodere tutti Ma facciamo davvero Un disastro qui Andiamo Dai Ti piace Sì la cosa più bella Che abbiamo mai fatto Su Minecraft Steph Allora Aspetta che mi Mi sto armando Fede No perché me l'ho fatto Davvero arrabbiare Perché il creeper Poverino passa una vita Davvero terribile E dobbiamo venditarlo Tutto il tempo Sai com'è più terribile Di così Cioè Capito Adesso vede un ragno Ed è verde Invece che nero Non sa neanche Che i ragni sono neri Esatto E lui viene maltrattato E bulletizzato Tutto il tempo Quindi noi adesso andiamo A questo villaggio E gli spacchiamo la faccia Perché io inizio a mettere Creeper ovunque Uno qua Uno qui Uno qui Guarda sarà come usare La TNT Feret Assolutamente sì Aprile Dante Siamo pronti Esplori e inizia a farli esplodere tutti Allora no voglio stare qui al centro Ok Vado Vado Esplodo Esplodi Ok Inizia ad avviarli tutti Andate creeper Vai 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 Distruggete questo posto Fategliela vedere voi Cosa Cosa vuol dire Trattarmi male Dimostrateli che non ve lo meritavate E che la vendetta È vostra Ti do una mano Vai Fere Accendili tutti Li accenderò tutti Distruggiamo questo villaggio Abbiamo disintegrato il villaggio Adesso Viverci è davvero difficile La vendetta dei nostri creeper È stata fatta Abbiamo scoperto che la vita Da creeper Non è così bella Però io sono curioso Di vedere la vita Di tutti gli altri mostri Assolutamente Ragni Zombie Scheletri Enderman E ce ne sono anche Tanti altri Sono molto curioso Di vedere come vivono loro Ragazzi Se vi è uscito Lasciateci un bel like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao